Un detenuto ha ucciso il compagno di cella nella casa circondariale Antonio Caputo di Salerno, lo ha sgozzato con una lametta da barba. Ad ucciderlo un detenuto magrebino che è armato di una lametta ha aggredito e sgozzato un suo connazionale. L'aggressore è stato poi bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria che hanno immobilizzato l'uomo mettendo in sicurezza la cella dove è avvenuto l'omicidio. Nonostante il tempestivo intervento, l'uomo è morto dissanguato. Ora si indaga per comprendere le motivazioni del gesto e per capire se sono state coinvolte nell'atto di follia altre persone, sangue e terrore in cella che ha destato ancora una volta tensioni all'interno del carcere. È da tempo che denunciamo lo stato di abbandono delle carceri campane. Questo è un episodio gravissimo, non abbiamo più parole per definire la confusione gestionale da parte di chi governa le carceri in Campania e quanto afferma in una nota il sindacato di polizia penitenziaria USP. In questo marasma generale, affermano i segretari Auricchio e del Sorbo, a farne le spese sono i poliziotti penitenziari lasciati soli in un silenzio assordante, senza strumenti idoni. Come sindacato abbiamo più volte denunciato il sovraffollamento del carcere di Salerno, che è il tasso più elevato in regione, oltre che per carenza di organico, che si attesta sulle 70 unità di personale di polizia penitenziaria. Nonostante le gravi difficoltà di personale di Salerno, con enormi sacrifici, riesce comunque a garantire l'ordine e la sicurezza interna. Tuttavia, in queste condizioni estremamente precarie di degrado, sovraffollamento e complessità dell'utenza, alcune tragedie non sono altro che cronaca di morti e gravi eventi critici più volte annunciati. È l'ennesimo episodio gravissimo di violenza presso gli istituti campani penitenziari. Lo afferma il segretario regionale del SAP, Tiziana Guacci, secondo cui il sindacato da tempo denuncia lo stadio di abbandono delle carceri in Campania, dove si continua ad assistere a continue aggressioni non solo al personale di polizia penitenziaria, ma anche alla popolazione detenuta. Di fronte a tali denunce, continua la sindacalista, riscontriamo un'inerzia del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria rispetto ad interventi concreti e risolutivi. Siamo molto preoccupati non solo per l'incolumità del personale di polizia penitenziaria, ma della stessa utenza che vuole scontare la propria pena in maniera serena.